a sono pronto vai gankateli vai sono ready fax lo sto arrivando c'era anche a mumu arrivo arrivo non vedo un cazzo arrivo arrivo fuck non arrivo più oh cazzo quadra kill per lux ah laser of doom vai uccidiamola devi morire vai evelyn fuck vai evelyn uccidi grace evelyn uccidi grace fuck mori bastardo mori si si yes fuck 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 go flash yes yes no oh 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 vai regia prendili regia prendili regia prendili prendi grace vai deve morire passion aiutami tu yes yes lux arrivo shield why fuck me devo andare flash 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 yes devo aiutare il mio team devo dare un out attacca a mumu eh sneaky sneaky blu questo adesso è il mio blu oh fuck ce lo devo fare oh fanculo oh merda ulti via alisa salvami salvami invece no ti aiuto ti devo aiutare no lo spingalo da me vai via 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 si sono vivo oh cazzo ancora no vai via ammazziamoli tutti vai share vai sono troppo lenti oh fuck via ma perchè ho fatto ah vai via maledetto maledetto ah è il mix drinker è il momento di pushare il mio team ha deciso di morire vai 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 si pusha world elite style world elite style go muori torre di merda fuck non mi arrenderò muori yes muori non andrò back non mi ritirerò eh via 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 lasciatemi lasciatemi in faccia ah shield ah shen go 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 eh eh no red go ah yes un'altra ranked carriata yes victory torre Grazie a tutti